Sarà Yannis Cunellis, l'artista che lavorerà alla installazione sulla Focara 2015, il monumentale falò, che si accenderà la sera del 16 gennaio a Novoli, in onore di Sant'Antonio Abate, patrono della città salentina. I tratti distintivi dell'enorme pira, 20 metri di diametro per 25 di altezza, saranno progettati dall'artista greco che creerà il suo intervento in relazione alla forma del pignone conico, un cumulo di circa 80.000 fascine di tralci di vite, a più strati concentrici, che anticamente venivano accatastate e bruciate come fuoco propiziatorio, con lo scopo pratico di ricavarne carbone. La Focara, sottolinea Cunellis, rappresenta la vittoria di una comunità che costruisce con il proprio sangue, bruciando i tralci delle vigne, un grandissimo falò. La vigna, simbolicamente, è la vita, il vino è la linfa vitale, il sangue è un rituale quasi teatrale. La festa del fuoco, da alcuni anni, su idea del presidente della fondazione Focara, nonché sindaco di Novoli, Oscar Marzo Vetrugno, è caratterizzata da una particolare interazione con le pratiche artistiche contemporanee ed internazionali. Già l'anno scorso, infatti, a decidere la forma conica alla Focara, è stato un artista straniero, il giapponese Hidetoshi Nagasawa. Gianni Scunellis, sotto la direzione artistica di Giacomo Zaza, realizzerà anche una serigrafia e un'opera a tiratura limitata, pensati per la Focara 2015.